Si parla in questi giorni di una nuova vita, Luca Spignese, che potrebbe trovare l'ex mercato comunale di Via Roma. È un futuro quello di quella struttura che la convince? Assolutamente bisogna riattivare quella zona perché quella è la luce di quella zona. Questa ristrutturazione nasce per la volontà delle precedenti amministrazioni di cui io ne facevo parte. Il mercato comunale nasce sulla scorta dei vecchi ricordi di tutti noi schitani, specialmente di quella zona. Le motivazioni per le quali questo mercato oggi, dopo essere stata finalmente realizzata la ristrutturazione più di 7-8 anni fa, è oggi aprile, nessuno lo sa. Intanto quella zona sta morendo, intanto come tante altre delle zone, delle comuni di Ischia, stanno morendo. Quella è una zona a valenza turistica. Questo sindaco, questa amministrazione ha fatto finta di niente per 7 anni, 8 anni circa. Oggi, non si sa per quale meraviglia, si svegliano e diciamo lo riapriamo. Ben venga caro sindaco, ben venga amministrazione, ma sbrigatevi perché 8 anni di danni turistici, 8 anni di incuria di quel posto hanno creato tantissimi disagi. Affidarlo a un privato? Non lo so. Avrei gestito tutto col comune, come si è sempre fatto. Le posso chiedere, non è preoccupato del fatto che comunque si trovi quel mercato all'interno di una ZTL? Sappiamo quanto, purtroppo, sarà un'abitudine malsana, però la lontananza delle automobili rispetto al mercato non rischia di essere comunque un problema, un freno allo sviluppo di quella zona. Potrebbe esserlo, però se si riesce a caratterizzare il mercato in un certo standard che possa attirare una fetta di turistiche per le quali passeggiano per via Roma e quindi creare delle attività molto turistiche, molto a valenza turistica, probabilmente questa situazione potrebbe sicuramente depotenziarsi. È ovvio che all'esterno sarebbe stata un'altra cosa, ma noi abbiamo quel sito dei vecchi ricordi. Perché cancellarlo? Invece riportare avanti le vecchie tradizioni cercando di modernizzare il più possibile. Questo è il concetto di tenere i valori e di portarli verso il futuro.